Oh, finalmente mi posso riposare un po' Oh, ma devono fare per forza tutto sto casino qua dietro? Annaggia, oh, ce la faccio più? UNA BASTA! Oh, finalmente posso stare in santa pace Allora, 10 euro in centesimi, cosa sono? Mille centesimi? Dovrei farcela, dovrei farcela Su un secondo Ok Uno Due Tre Novecento e novantotto Novecento e novantanove E mille Ok, dovrebbero essere dieci euro Un attimo che gli conto Nooooo Eeeeh 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 Sì, pronto? Salve, sono Pinco Pallino della Trust Telefonia Mobile Italy. Volevo proporle questa nuova offerta. No, guardi, non mi interessa. No, guardi, questa offerta è vantaggiosissima. Mi creda. No, mi dispiace, guardi, davvero, non mi interessa. Guardi, ho già un'altra offerta che mi va bene, quindi... Le posso assicurare che la nostra offerta supera quella che attualmente ha. Senta, le ho detto che non mi interessa, quindi non insista. No, ma mi ascolti un momento. Ho detto che non mi interessa.